Benvenuti all'Osteria Primo Novecento. La struttura del Primo Novecento è appunto di oltre cent'anni, questa piccola bomboniera dove domina il colore rosa. L'ambiente è anche caratterizzato da tutti questi nostri quadri bianco e nero che abbracciano un po' la nostra clientela sia a pranzo che a cena. Il locale è piccolino, si presta soprattutto magari alle cene di coppia, però sicuramente anche ritrovi di amici, ritrovi familiari per diverse occasioni. Qui al Primo Novecento siamo in 12, ci vediamo alle 9 del mattino fino all'una di notte, quindi passiamo assieme tutta la giornata, una grande famiglia e condividiamo insieme gli stessi obiettivi. Il tipo di cucina è mediterranea, abbiamo una cucina appunto di carne e di pesce, abbiamo degli ottimi antipasti misti di pesce, dei bei primi, abbiamo dei secondi, cose da mettere anche a centro tavola. Il Primo Novecento è facente parte di un gruppo, di una storia, che è la storia della mia famiglia. C'è il ristorante Ribot, il ristorante Pizzeria Rembrandt e l'osteria Trotter. Ognuno cerca di fare il suo meglio, ognuno comunque condivide gli stessi valori, che sono quelli del rispetto, del lavoro e della serietà nei confronti sia del personale che del cliente. Speriamo di fare bene il nostro mestiere e di riuscire ai nostri obiettivi. Speriamo di fare bene il nostro mestiere. Grazie.